Senti il suo richiamo Ti giunge da oltre le terre, le acque e i cieli Promettendoti piacere, tranquillità e relax Nella bellezza abbacinante della nostra terra incontaminata Questa meta è ancora poco conosciuta Nel calore ospitale degli indigeni del luogo Che chiamiamo Belongers Scoprirete il fascino di questo popolo La loro generosità e serenità E un ambiente ideale In cui rilassarsi Se stai cercando un po' di evasione Ti basta seguire la luce Le isole Turks e Caicos La luce dei Caraibi Benvenuti a Turks e Caicos Dove la luce è sempre presente ovunque E risplende fulgidamente Tutte le nostre isole sono bellezze naturali Con aree di terraferma e zone marine Composte di parchi, riserve naturali, oasi di pace e siti di interesse storico Fatti un giro Vedi cosa hanno da offrire Turks e Caicos Da Grand Turk La capitale, con la sua architettura coloniale britannica Ha i colori tipici di questa terra La storia e la cultura caraibica Per godersi la nostra quasi totale assenza di traffico Automobilistico si intende Prossima tappa Providentiales O Provo, come la chiamano qui Un mix unico di fascino insulare e raffinatezza contemporanea Alloggi eleganti Comfort di ogni genere Migliaia di opportunità di praticare sport acquatici e avventure all'aperto E un'infinità di modi di immergersi nella miriade di lussi che offriamo La famiglia di isole comprende Barrett Key Una delle isole più esclusive del mondo Oggi, meta di lezione dei ricchi e famosi Tre secoli fa è stata il rifugio della temuta piratessa Antony North Caicos è uno spettacolo per gli occhi Grazie al massiccio storm di aironi che vi vivono E alle rovine storiche della piantagione Wade's Green Presto verrà inaugurato il North Caicos Yacht Club Il più grande nei Caraibi E uno dei porti di attracco di Turks e Caicos Riservati all'elite degli iottisti Middle Caicos è rinomata per le sue scogliere a picco e in calcare E per le sue vaste e meravigliose spiagge Le sue ampie grotte di calcare sono senza dubbio le più grandi di tutte le isole West Caicos, sede futura del porto e del centro accoglienza più sofisticato del mondo E' anche considerato il luogo dove praticare tuffi ed immersioni che non hanno uguali altrove East Caicos vanta una costa isolata ed incontaminata di ben 27 chilometri E le rovine di Jacksonville, un tempo città florida, oggi testimonianza di esistenze passate South Caicos è un paradiso per chi ama la pesca, ricca di pesci che sfamano l'intera popolazione caraibica Nel corso dei secoli ha ospitato celebrità e personaggi nobiliari Oggi è il centro della rinomata scuola di biologia marina Pine Key, un paradiso abbandonato, è ricca della storia degli indiani Arawak Oggi quest'isola è sede di una affermata quanto esclusiva oasi di ristoro Salt Key, con soli 60 abitanti, vuol dire evasione totale Col fascino dei suoi mulini restaurati ed edifici storici I turisti vi giungono da tutto il mondo per ammirare le balene Humback Che fanno qui ritorno ogni anno Deleski, un tempo florido centro di cultura di spugne marine Sarà presto una delle mete più ambite per chi è in cerca di relax E infine Ambergris Key Originariamente popolata dagli indiani Teino È spesso servita da rifugio per i pirati Rimasta disabitata per secoli Oggi l'isola è zona residenziale privata Dotata di centro sportivo ad appannaggio dei soli membri La luce notturna emana romantici falò accesi fino all'alba Anche in momenti di tranquilla solitudine è possibile avvertire la luce dentro di sé Senza ombra di dubbio, le nostre isole sono tra le più incantevoli del mondo Goditi la luce che si riflette sulla bianca sabbia Senti il calore dei suoi raggi sulla pelle Ammira il suo riverbero mentre penetra le profondità delle nostre acque cristalline Per apprezzare davvero Turks e Caicos Devi vivere l'esperienza in prima persona La luce che emana dai nostri cuori Ci illumina l'anima È visibile ovunque Trasforma qualunque cosa sfiori E cambierà anche te La luce dei Caraibi ti sta chiamando E cambierà anche te Il pubbio per la turca e Caicos Once here, Travellers can catch direct flights a un'islanda, come Gran Turc, North Caicos, Middle Caicos, South Caicos, and Salt Key. Charter flights to surrounding island resorts are available, too. Visitors wanting to explore beyond the Turks and Caicos can choose among regularly scheduled flights to and from neighboring island countries, the Dominican Republic, Haiti, Jamaica, and the Bahamas.